Ennesimo caso di violenza familiare, ennesimo dramma di maltrattamenti sulle donne. Questa volta è accaduto a Santa Pollinare, nel Cassinate, vittima una donna di origine marocchina, da anni vessata dal marito, un 63enne da molto tempo residente in Italia. Pugni, schiaffi, botte di continuo subite per anni. Poi, nel maggio dello scorso anno, al termine di un'escalation di maltrattamenti, un'aggressione drammatica alla donna, inseguita dal marito fino all'auto, dove la stessa era riuscita per fortuna a rifugiarsi dopo essere stata picchiata in maniera selvaggia. Il 63enne, disoccupato, già censito per furto, minacce e maltrattamenti in famiglia, aveva cominciato a colpire la vettura con una grossa ascia e solo per miracolo la donna era riuscita a salvarsi. Ora, i carabinieri della stazione di Santa Pollinare hanno dato esecuzione all'ordinanza della misura cautelare personale emessa dal gippo del tribunale di Cassino nei confronti dell'uomo, una misura con la quale gli viene imposto il divieto di avvicinamento e luogo abitualmente frequentati dalla moglie, nonché il divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo. La misura è scaturita appunto dall'attività di indagine dei militari dell'arma, a seguito della denuncia della donna.